ciao da luci oggi faremo insieme questa bellissima tracollina come potete vedere veramente piccolina piccolina ma molto molto graziosa dall'immagine ovviamente della presentazione in questa versione in questo momento ho già finito e nella versione nera luccicosa e argento che andremo a fare proprio adesso insieme è fatta interamente con cordino le uniche parti che sono state aggiunte quindi sono la catena e la chiusura clic clac ho fatto io il fondo l'ho rinforzato e vi farò vedere come rinforzare il fondo potete decidere se foderarla oppure no e ora vi faccio vedere nella mia c'è ciò che la tiene diciamo in forma in questo momento però vedete non è foderata non l'ho voluta foderare perché era piccolina era graziosa non aveva particolari giunture punti brutti insomma era bella così io ho deciso di non foderarla quindi a piacere vostro se volete foderarla oppure no quindi adesso vi faccio vedere è questa chiusura è da 16,5 cm noi la faremo con un'altra chiusura un pochino più grande perché questa chiusura non è facilissima da reperire in quanto l'ho acquistata su amazon ma va spesso in esaurimento quindi e ci mette anche tantissimo ad arrivare quindi ho deciso di rifarla con una chiusura alternativa adesso la vediamo insieme eccoci qui allora per fare la nostra tracollina ci servirà una chiusura clic clac in questo caso da 20,5 centimetri questa è molto carina alla perla che si solleva per aprire la nostra clic clac vedete in questo modo e poi chiude e la perla scatta e tiene chiusa la nostra clic clac anche questi come dire inserti che servono poi per poter attaccare la nostra catena ecco qua poi nelle info vi scrivo anche dove ho acquistato la chiusura un uncinetto numero 3 e per la nostra nuova tracollina servono due colori io sto usando un macrame cord nero luccicoso per il fondo e per la parte alta della borsa mentre avrà un inserto di un altro colore ho questo bellissimo silver sempre macrame cord sempre macrame cord ice young che io ho acquistato da italia artisan mi piace tantissimo allora ogni gomitolo da 100 grammi da 160 metri vi assicuro che ha una resa veramente buona è un 100 per cento poliestero ovviamente come tutti i cordini ha la particolarità ecco di essere molto sverlucicoso molto sottile e morbido da lavorare quindi io tutte le mie borse le faccio con questo cordino proprio perché è molto molto agevole la lavorazione passiamo subito quindi a vedere beh vi serviranno scusate anche un agotirafettuccia per chiudere taglia fili per tagliare quindi comunque questi sono gli attrezzi principali andiamo subito a vedere la realizzazione della nostra allora per la mia borsa che ho chiamato data ho avviato ecco questo qua è già il primo pannello del fondo cosa che non vi ho detto servirà anche della rete che è assolutamente facoltativa ma se volete indurire il fondo vi consiglio di metterla quindi ho fatto già una parte e siccome ne dobbiamo fare due perché poi la rete andrà inserita all'interno quindi faremo un doppio fondo ne ho già fatto uno e vi faccio vedere la rifinitura sul secondo ovviamente non era necessario farvi vedere tutta la lavorazione perché obiettivamente è un semplice è una semplice maglia bassa quindi una volta che io vi dico che dovete avviare 36 catenelle più una per alzare il lavoro e dovrete fare quindi 36 maglie basse per 18 giri prima del perimetro quindi io qui ho già anche fatto il perimetro mentre nell'altro nell'altra parte di fondo il perimetro non l'ho ancora fatto perché adesso lo andiamo a fare insieme mi rendo conto che il nero è veramente difficile da vedere però è molto facile la lavorazione quindi lo facciamo insieme ma non sarebbe necessario ora vi spiego cosa andiamo a fare visto che non si vedrà benissimo io ho semplicemente lavorato 36 maglie basse per 18 giri al termine quindi del fatto anche il perimetro avremo 112 maglie basse ma per arrivare alle 112 maglie basse noi dobbiamo fare comunque poi un giro da 36 maglie basse sul lato lungo una catenella nell'angolo 18 maglie basse sul lato corto una catenella nell'angolo e quindi ripetere le 36 catenella 18 catenella e questo adesso lo andiamo a fare insieme fatto tutto questo ci ritroveremo perimetralmente 112 maglie basse che poi ci serviranno per far crescere in altezza la nostra borsa andiamo subito a fare il perimetro insieme quindi eccoci qua io ho fatto il diciottesimo giro e si può contare anche è facilissimo contare le maglie dal dritto quindi sono contiamo proprio qua per renderci conto quindi sono 1 2 3 4 5 6 7 8 quindi siamo a 18 giri infatti i miei 18 giri ovviamente vado a fare il mio diciannovesimo giro perché comunque è il giro di perimetro quindi sono 18 più un giro di perimetro tutto attorno quindi partiamo dal lato lungo facendo il giro di perimetro quindi alziamo con una catenella entriamo nella primissima maglia e facciamo la maglia bassa e facciamo una maglia bassa in ogni maglia bassa sottostante fino ad arrivare qui arrivata in fondo al giro entro nell'ultima maglia bassa entro faccio una catenella rientro nella stessa maglia ecco qui e giro il lavoro dal lato corto quindi vado a contare questa prima maglia come numero uno nella prossima la due tre quindi in ogni foro che trovate andate a fare una maglia bassa quattro uno cinque sei sette otto nove dieci undici dodici tredici quattordici quindici sedici diciassette e diciotto eccoci qua una catenella rientriamo nella diciottesima voilà e voltiamo il lavoro da questo lato quindi faremo la stessa cosa adesso rilavoriamo nella come si dice abbiamo lavorato nella diciottesima ora andiamo a prendere come se stessimo facendo il punto canestro quindi non prendiamo la catenella nel suo unico filo che ci rimane ma la puntiamo sotto quindi andiamo a fare la seconda scendiamo quindi di una e facciamo la terza non entriamo qui sopra ma qui sotto quattro prossima cinque e così via quindi faremo la stessa cosa da questa parte lavoreremo nell'ultima maglia bassa catenella maglia bassa voltiamo e saliamo e noi ci ritroviamo qua perché vi faccio vedere la chiusura del giro sono arrivata a dover fare la diciottesima maglia la faccio faccio una catenella e con una maglia bassissima entro nella prima maglia lavorata ad inizio giro cercatela bene perché ecco qua è questa se no poi vi ritrovate con una maglia in meno quindi faccio così sfilo l'avevo già tagliato e mi ritrovo con il mio secondo fondo fatto vedete sono perfettamente combacianti quindi mi raccomando contate bene vado a tagliare i fili in eccesso così non mi ecco danno fastidio tanto avevo già nascosto i miei fili ora li posizioniamo ovviamente dal lato che rimanga dritto l'esterno quindi questo lo mettiamo al rovescio questo lo appoggeremo sopra in modo da avere il dritto verso di noi e dobbiamo andare a tagliare la rete la rete la tagliamo perfettamente grande come il nostro fondo ecco io faccio proprio un pochino meno ma pochissimo quindi andiamo a tagliare la nostra rete della stessa dimensione ecco qui la mia rete tagliata della stessa dimensione del mio fondo in questo modo ora siccome abbiamo il cambio filo andiamo a aprire il nostro gomitolino perché sono fatti sono proprio tenuti bene hanno anche l'elastichino per tenerli quindi vado a fare il mio capietto mobile sul filo l'uncinetto ed ora mettiamo da parte per un attimo la rete abbiamo già posizionato in maniera corretta i nostri fili andremo a nascondere poi le codine ecco in questo modo all'interno del doppio fondo non dobbiamo fare altro che prendere la costina dietro quindi questa costina prendiamole tutte mi raccomando se no poi non ci ritroviamo con i punti la costina dietro ecco del primo fondo e la costina davanti del secondo in questo modo vedete andiamo ad unire con una maglia bassa adesso è scuro faccio fatica a farvelo vedere ma ecco qua prima facciamo la nostra maglia bassa dopo nasconderemo dentro nella lavorazione tutte le codine quindi prendo costina davanti del primo fondo costina dietro del secondo scusate costina dietro del primo fondo e davanti del primo del secondo certo i giochi di parole sono fantastici quindi entro così e così quindi e maglia bassa quindi di nuovo costina dietro del primo fondo costina davanti del secondo ecco mi correggo man mano che ho davanti se no contate le maglie per essere sicuri che stiate prendendo tutte le maglie sia da un fondo che dall'altro quindi costina dietro del primo fondo costina davanti del secondo tiriamo maglia bassa facciamo così per tutto il perimetro quindi lavorando anche le catenelle dell'angolo fino ad arrivare ovviamente alla fine della nostra lavorazione ma fermiamoci un po' prima perché prima di chiudere dobbiamo infilare in questo modo la nostra rete quindi non chiudetelo tutto senza aver inserito la rete ovviamente ecco qui cosa avremo al termine del nostro lavoro come potete vedere ha un certo spessore e anche una certa rigidità devo dire la verità ho avuto la pensata di questo doppio fondo proprio perché così non sono obbligata poi a foderare la borsa anche perché essendoci il doppio fondo veramente rimane bella rigida e non necessita appunto di nessun accorgimento ulteriore come potete vedere questo sarà all'interno ovviamente la lavorazione dritta sarà all'esterno della nostra borsa ora siccome io voglio procedere con la lavorazione a spirale non faccio altro che andare avanti a fare maglie alte vedete ho finito il giro ho chiuso anche l'angolino non faccio altro che lavorare quindi nella prima maglia vado a fare direttamente aspettate perché mi è scivolata vado a fare nella prima maglia lavorata normalmente quindi non in costa una maglia bassa e così farò anche nella seconda nella terza e così via quindi adesso andiamo a fare tutto un giro segnatevi magari con un marca punti la prima maglia perché poi inizieremo la lavorazione a canestro quindi facciamo tutto un giro di maglia bassa quando arriviamo qui iniziamo la lavorazione a canestro ma la vediamo insieme naturalmente arrivata a questo punto vedete io sono alla centododicesima maglia non andrò a chiudere con una maglia bassissima ma ovviamente proseguo con la lavorazione a spirale vedete cosa è accaduto nel frattempo il nostro fondo vedete si è leggermente spessorato sia all'interno che all'esterno dopo man mano che lavoreremo si piegherà ovviamente la lavorazione in questo modo e salirà lasciando comunque un leggerissimo scalino perché comunque il nostro fondo è alto quasi mezzo centimetro quindi è un bel fondo resistente e molto alto ora iniziamo la lavorazione a scusate canestro in questo modo allora sempre dal lato dritto quindi la prima maglia la lavoro ancora ecco così normale la seconda maglia invece di entrare qua entro nel foro sotto quindi non entro qui normalmente ma entro un foro sotto in questo modo e faccio la maglia bassa la prossima maglia la lavoro normale quindi maglia bassa presa nella sua nel suo normalissimo anellino la maglia successiva non la prendo qui ma la prendo sotto in questo modo allora il primo giro può essere un po' confusionario siccome poi lavoreremo alternando il secondo di questo punto sarà molto più semplice quindi la prossima la lavoriamo presa come normalissima maglia bassa quella seguente qui abbiamo la solina vedete se noi tiriamo si apre anche il buchino sotto noi andiamo proprio in questo buchino sotto tiriamo sul filo e lavoriamo in questo modo la prossima la prendiamo normalmente quella dopo non la prendiamo qui ma qui sotto e quindi normalmente maglia bassa nuovamente la successiva la prendiamo normalmente la prossima invece di entrare qui vediamo se riesco a farvelo vedere bene entro non qui ma qui vedete nella maglia sotto facciamo questo per tutto il nostro giro quindi una presa normalmente una presa sotto una presa normalmente e una presa sotto ripeto il primo giro rimane confusionario dal prossimo giro in poi sarà tutto molto più semplice ci serve per far venire vedete questo motivo quasi a nido d'ape molto molto bello vedete in questa si vede bene essendo già finita non essendo bicolor si vede molto bene il cambiamento di lavorazione vedete anche qua c'è il fondo spessorato quindi ora andremo avanti vi dico già avendo fatta questa per 1 2 3 4 5 vediamo 1 2 3 4 5 6 7 8 9 per una decina di giri lavorando a punto canestro ovviamente non vi faccio andare avanti da soli perché quando sarà il secondo giro di punto canestro lo faremo ancora insieme per ora io continuo tutto questo giro e ci rivediamo di nuovo qui eccoci arrivati al termine anche di questo giro quindi io ho fatto una maglia bassa normale ora qui ho una da lavorare una maglia bassa presa sotto mi ritrovo praticamente con una maglia meno quindi io cosa farò ne lavorerò ecco qua due per essere aspettate aspettate mi è scappato il filo allora questa la lavoro dritta no ecco così ne avevo lasciata una questa la lavoro presa sotto ecco qua ora ho questa che è stata presa sotto e la lavoro normalmente quindi ci salgo sopra quindi adesso cosa faccio in quelle che scendono faccio la maglia alta bassa scusate normale in quelle lavorate normali la prendo sotto in questo modo scusate continuo a urtare la videocamera quindi la prossima è lunga quindi la prendo sopra la prossima è corta la prendo sotto quindi ci ritroveremo con delle maglie basse prese nel foro sotto e le lavorerò sopra le maglie basse che sono prese sopra andrò sotto si creerà comunque questo buchino dove voi infilerete so che con questo filato forse non si vede benissimo però vi faccio vedere da così questa l'ho presa normalmente questa è una maglia bassa normale non entro qui sopra ma entro qui sotto ecco qua la prossima è lunga vedete che è lunga la prendo sopra poi quella dopo è una maglia bassa normale la prendo sotto la prossima è lunga la prendo sopra quindi andremo avanti a spirale lavorando in questo modo quando arriviamo a termine giro stessa cosa se l'ho finita presa sopra vado sotto se invece è una maglia bassa normale la prendo in modo diverso quindi comunque alterniamo questo ve lo faccio vedere sullo scuro perché non sembra mai più semplice a volte lo scuro del chiaro vedete dove c'è questa allungata quella dopo la prendo sopra dove c'è quella bassa entro scendo di una maglia quindi in questo modo guardate questa dovrei entrare qua per la maglia bassa io entro nel buchino sotto mentre se è già allungata io entro da sopra so che è un po' difficile con questo filato comprendere il punto canestro ma vi assicuro che è da lavorare è di una semplicità estrema veramente quindi ve la faccio rivedere così speriamo che si veda perché veramente non si vede nulla vedete questa è lunga io entrerò qui questa a fianco è corta invece di entrare da qui io entrerò qui sotto quindi io spero si sia visto mi rendo conto che con questo filato non si vede benissimo comunque adesso andremo avanti a spirale lavorando in questo modo per almeno una decina di centimetri e poi ci rivedremo perché io farò di nuovo il cambio filo e farò questo quindi lavorerò l'ultima maglia bassa tutta normalmente presa in costa in modo da fare questo cordolo poi salirò a maglia bassa semplicissima però come sempre lo faremo insieme ecco qui sono arrivata a 6 giri di punto canestro dopodiché mi è stato chiesto di fermarmi perché andava bene così visto che mi è stata commissionata questa borsa ovviamente vado ad incontrare i gusti di chi me l'ha commissionata cosa faccio siccome io ora dovrò fare il cambio colore nel mio caso ma in ogni caso devo cambiare punto cosa vado a fare nel prossimo punto faccio una maglia bassissima e in quello dopo anche ecco qua faccio due maglie bassissime sfilo e ho fermato diciamo il mio lavoro con questo punto ora vado lateralmente sul lato piccolo faccio il mio cappietto mobile sull'uncinetto e entro in un in una maglia qualsiasi del lato piccolo più centrale possibile in costa retro faccio una maglia bassissima vediamo se ci riesco senza farmela scappare perché mi scappa sempre la prima maglia bassissima facciamola un po' morbida va così ecco qua la mia maglia bassissima ora vado a stringere il filo ecco qua e lo andrò anche a nascondere nella lavorazione e vado a fare tutto un giro di maglia presa in costa retro in questo modo semplicemente maglia bassa ma in costa retro in modo che si crei questo cordolino diciamo che fa un po' da decorazione quindi vado tutto intorno volevo arrivare sulle maglie bassissime fatte prima per farvi vedere la lavorazione intanto io sto anche nascondendo la codina del filo nero in questo modo eccoci qua sono arrivata vedete rimane un po' strettino dove ho fatto le maglie basse rimane un po' strettino ma ci entriamo normalmente ecco qua entriamo nella seconda maglia bassa vedete che esce il filo da qua ci entriamo ci lavoriamo ci portiamo dietro anche quella codina nella prossima maglia quindi entriamo nella prossima in quella dopo quindi andiamo avanti a fare tutto il nostro giro incostra retro tirandoci dietro tutti i fili perché ho fatto quel lavoro guardate che quasi non si vede devo tirare un po' il filo però quasi non si vede vedete il cambio colore anche se abbiamo lavorato a spirale il cambio colore non si vede perché facendo quelle maglie bassissime e riagganciandoci in un altro punto facciamo in modo che non si noti il cambio di lavorazione e il cambio di colore anche nella lavorazione a spirale quindi ora vado a farmi tutto questo giro in maglia bassa costa retro quando arriverò qui ricomincerò la lavorazione a spirale quindi farò l'ultima maglia e poi senza fare catenelle o maglie bassissime andrò direttamente a lavorare su questa quindi riprendo la mia lavorazione a spirale fino ad arrivare all'altezza che desiderate per poi chiudere la vostra borsa dopo 24 giri questo è quello che avremo vedete la nostra borsa sarà praticamente finita io ho chiuso con due giri di maglia bassissima sul fianco e ho già messo tutte le mie pinze perché sono pronta per cucire allora vi dico che per cucire dovrete mettere delle pinzette vedete io ho messo delle pinzette lateralmente per fare il soffietto lo vedete meglio da questo lato vedete ho fatto un po' di soffietto e l'ho fermato vedete con le mie pinze ho preso una pinza e ho messo qui per fare il mio soffietto perché dobbiamo andare a vedere qual è la misura giusta diciamo per infilare la mia clic clac sulla borsa vedete ve la metto per così così la vedete meglio ecco in questo modo ho affrancato con le pinzette voi potete mettere mollette pinzette spingi quello che meglio credete per bloccare ecco qui è la mia borsa bloccata vi faccio vedere ancora di nuovo se si vede bene qua perché sul nero si vede non benissimo c'è l'eccesso ecco qui vedete c'è l'eccesso della mia borsa vi ritroverete con la borsa quindi il corpo borsa che sarà più largo della chiusura clic clac io sempre faccio questa cosa non è perché sbaglio le misure è perché facendo un po' di soffietto ho la possibilità di avere la borsa leggermente più grande della mia chiusura quindi avere comunque una borsa di pochino più grande ecco qua io adesso vado a cucire e ci vediamo quando la borsa è terminata ed ecco qua finita la nostra bellissima borsa guardate è impreziosita dalla bellissima etichetta presa da Fungolabel che voi conoscete come Fata Morgana mi sono fatta fare queste bellissime etichette da attaccare alla mia borsa per renderla ancora più preziosa è a fondo specchio quindi un po' riflette guardate è veramente bella ho messo anche la la catena per avere la tracollina esattamente come la sorellina più piccola ecco qua vedete anche essa con la bellissima etichetta sempre Fungolabel benissimo io spero che anche questo video vi sia piaciuto se nel caso vi è piaciuto mettete un bel dittino in su potete venire a trovarmi sul gruppo facebook creando e chiacchierando con luci vi lascio in descrizione tutti i link sia per la targhetta sia per i filati sia per la chiudura clic clac vi mando un grosso bacio ciao da luci al prossimo tutorial ciao ciao